è stata una partita difficile da parte nostra però tutto sommato abbiamo portato a termine il campionato è stata dura e ora ci andremo a giocare play out nella prossima la prossima giornata abbiamo dei rimpianti merito da alcune partite in generale è stata una stagione negativa in quanto molti ragazzi sono riusciti a portare a termine il campionato però fortunatamente siamo rimasti il più possibile uniti ci stiamo già organizzando con i ragazzi per per allenarci nelle prossime settimane siamo determinati e vorremmo anche per una questione per per riscattarci un po tutti a livello sia personale che sportivo e quindi vorremmo proveremo a mantenere la categoria grazie